Eccoci, buonasera, il telegiornale parte dalla tragedia di Alessandria. Una tragedia, come forse già saprete, di cui non si conosce ancora il responsabile. Ma quello che è certo è che si è creata, volutamente o no, una trappola nella quale sono rimasti uccisi tre vigili del fuoco accorsi dopo una prima esplosione in un cascinale di campagna. Subito dopo il loro arrivo c'è stata una seconda, più forte esplosione. I tre sono rimasti uccisi, altri feriti. E si sono trovate però altre bombole inesplose collegate con fili a un timer. È evidente appunto che le due esplosioni erano state volute a distanza di tempo una dall'altra. Per cosa? Da parte di chi ancora non è chiaro. Si è esclusa una pista terroristica, quella di un attentato che avesse uno scopo di terrore o di qualche segno politico. Si sta cercando di capire se c'erano dissidi familiari, volontà di trovare assicurazioni. Ma perché uno fa esplodere così un cascinale enorme peraltro? E l'altra domanda, chi incasserebbe mai un'assicurazione o la farebbe franca con l'evidente prova che si è trovata subito, che si è trattato di un atto doloso? Su questo si sta indagando, ma resta la sostanza. Quei tre vigili del fuoco morti, attorno ai quali e attorno alle loro famiglie, nel loro ricordo, si è stretta davvero tutta l'Italia ufficiale e non. Poi andremo a vedere il giorno dopo la questione Ilva, Arcelor Mittal. Per la prima volta da quando è nato il governo è tutto compatto sulla linea del respingimento delle motivazioni e dell'azione del gruppo franco-indiano. Per la prima volta si è assistito a un Renzi che dice sono d'accordo con Conte, tanto per dire il livello di compattezza del governo. Mentre però la stessa società, la stessa multinazionale, a Taranto comunicava ai sindacati che tira dritto sulla sua linea del recesso. Potete immaginare la sfiducia nei lavoratori dell'impianto pugliese. Vedremo però altre notizie. La prima, la più vista e seguita in questi giorni perché mette insieme lo sport più popolare e l'intolleranza. Dal caso Balotelli al caso degli Ultra del Verona c'erano i cori, c'erano gli ululati, c'erano i gesti contro il calciatore del Brescia perché la curva del Verona è stata squalificata di fatto, non potrà essere riempita di pubblico nella prossima giornata interna di campionato della squadra di Verona. E questa quindi è la prova che anche a livello di Procura federale si è appurato che ci sono stati sicuramente cori o elementi razzisti nei confronti di Balotelli. Ma vedremo anche sul tema dell'intolleranza che è stato legato in questi giorni a un'altra vicenda, quella sul braccio di ferro attorno alla commissione che chiamiamo Segre perché nasce da un'idea di molti mesi della senatrice Vitaliliana Segre. C'è un fatto nuovo che non è direttamente riguardante la commissione ma in qualche modo probabilmente porterà a un cambiamento di scena perché Matteo Salvini ha detto sono pronto a incontrarla, voglio incontrarla spero di incontrarla al più presto per ascoltarla perché da lei ho da imparare. È evidente che si vogliono creare le condizioni per un dialogo positivo che stemperi tutte le divisioni che ci sono state. È chiaro che non conviene a tutti una commissione che nasce delegittimata da una parte del Parlamento. Vedremo se questo poi sarà il finale, sarà nelle mani ovviamente della Segre, di Salvini e delle altre forze politiche. Ma poi vedremo anche che il Presidente del Consiglio ha risposto su quella vicenda. Lo ricorderete la sera delle elezioni, le ultime elezioni in Umbria, l'anticipazione del Financial Times su un conflitto di interessi possibile per Giuseppe Conte. Oggi ne ha riferito in aula e ha portato argomenti per dimostrare che non c'è alcun conflitto di interessi. Ovviamente nell'esposizione fatta dallo stesso Conte. E poi tre fatti internazionali importanti. Il ritiro ufficializzato degli Stati Uniti dall'accordo sul clima di Parigi, l'annuncio dato dai sauditi di una tregua definitiva forse nella guerra civile dello Yemen e l'Iran che ha annunciato, che ha completato quasi l'opera di arricchimento dell'uranio in spregio a quello che era l'intesa, che peraltro proprio dagli Stati Uniti è stata protestata sul nucleare di Teheran. Trenta secondi, i titoli. A Quarniento nell'Alessandrino esplode nella notte una cascina disabitata mentre era in corso un intervento dei vigili del fuoco per una fuga di gas e una prima esplosione. Tre pompieri, tre vigili del fuoco sono morti sul luogo. Sono stati ritrovati timer, inneschi rudimentali, bombole del gas. Gli inquirenti non hanno dubbi, si tratta di un atto doloso, ma escludono la pista terroristico-eversiva. Si indaga per crollo e omicidio prurimo tra le ipotesi di sidi familiari o di vicinato. Si indaga anche su premi assicurativi, ma la verità è che non si capisce chi e perché ha agito. Linea dura del governo e compattezza per la prima volta dell'esecutivo dopo la decisione di Arcelor Mittal di ritirarsi dall'ex Ilva. I patti si rispettano, saremmo inflessibili, dice Conte, alla vigilia dell'incontro con i vertici dell'azienda. Per la linea del Presidente del Consiglio arriva a sorpresa anche l'appoggio completo da parte di Renzi. Ha ragione Conte, ha torto Arcelor Mittal e la linea anche di tutto il governo per la prima volta. Ma a Taranto Arcelor Mittal tira dritto. Attraverso la sua massima rappresentante italiana ha confermato il recesso ai rappresentanti sindacali. Domani riconsegnerà gli impianti ai commissari. Tra gli operai c'è più sfiducia che rabbia. Ormai la bomba è esplosa, dicono, quasi rassegnati dopo anni e anni battaglie. Il governo deve dirci cosa dobbiamo fare. Basta con le promesse, noi vogliamo solo lavorare. Dopo gli insulti a Balotelli, la Procura di Verona ha aperto un'inchiesta per istigazione alla discriminazione razziale. Il Verona Calcio ha messo al bando il capo ultra a Castellini per le dichiarazioni rilasciate contro l'attaccante del Brescia. Non andrà allo stadio fino al 2030. Ma soprattutto il giudice sportivo ha chiuso per un turno la curva degli ultras. Sarà per me un onore incontrare Liliana Segre. Da lei ho solo da imparare. Così Matteo Salvini stempera le polemiche sulla commissione contro l'intoleranza, razzismo e antisemitismo che porta il nome della senatrice a vita sopravvissuta a Auschwitz. La mia porta è sempre aperta. Se mi vuole incontrare, perché no? Ha replicato la Segre. Gli Stati Uniti hanno detto ufficialmente addio all'accordo sul clima firmato a Parigi nel 2015 da 197 paesi. La decisione annunciata da Trump nei mesi scorsi mette a rischio il patto anti-inquinamento delle potenze mondiali. Tranquilli, nessun calo di voce, posto che qualcuno se ne possa essere preoccupato. Però andiamo, come sapete, all'inizio del giornale alla notizia più importante. Una notizia che ci porta al cospetto di una tragedia. Una tragedia che però non ha ancora una spiegazione. Sicuramente non una tragica fatalità. Si è trattato di un atto doloso che ha portato alla morte di tre vigili del fuoco. Di fatto una trappola, anche se non si sa quanto fosse volontaria. Prima una prima esplosione, l'annuncio di una fuga di gas, l'arrivo dei vigili del fuoco e quando erano lì a operare, appena arrivati, una seconda deflagrazione violentissima che ha portato alla morte di tre dei vigili del fuoco. Il servizio dell'inviata si apre proprio con una testimonianza, lì al momento. Siamo tutti cotti, Pasqua. Aspetta, Roberto, aspetta, che sono con il 118, sì? Devi fare il freddo di mandare delle due perché è crollato tutto. Sì, ho scusato qua, eh? Sì, ho scusato qua. Sì, ho scusato qua, non posso scusare che ti parli, eh? Ok. Grazie, grazie, ciao. Ed, chi sei? Roberto? Pronto, Pasqua, vada qualcuno, ti prego, stanno morendo tutti qua, eh? Stanno arrivando, stanno arrivando, non preoccuparti. L'ipotesi che sia stato un evento accidentale durata poco, è bastata una manciata di ore per escludere anche un attentato terroristico e capire che si è trattato invece di un atto doloso e preordinato. I primi indizi, due bombole del gas non esplose ed un timer trovati nella cascina crollata questa notte a Quarniento, piccolo comune del Monferrato in provincia di Alessandria. Due boat in piena notte, dopo la prima esplosione arriva la squadra dei Vigili del Fuoco, composta da cinque uomini, controllano, mettono in sicurezza quell'ala del casolare, sembra una fuga di gas, ma dopo un'ora e mezza un'altra parte della struttura dove si trovano per la bonifica crolla sotto una seconda esplosione, più forte e potente. Quale sia stato l'innesco ancora sepolto dalle macerie? Il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio esclude che chi è intervenuto sia stato attirato in una trappola, si sono trovati al posto sbagliato nel momento sbagliato. Proprietario di questa cascina, disabitata da un paio d'anni e un imprenditore con un passato nell'informatica, negli ultimi tempi sembra non navigasse in buone acque. Gianni Vincente è stato ascoltato questa mattina come persona informata dei fatti. La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per crollo doloso di edificio e omicidio plurimo al momento contro i gnoti. Sono stati ascoltati come testimoni altre persone vicine al proprietario del cascinale per capire se e come fosse assicurato se ci fossero stati screzzi familiari o di vicinato. È stata l'esplosione che è stata di una potenza indescrivibile, mi ha preso un'onda d'urto che io non so. In quel momento per una frazione di secondo mi sono sentito morto. Poi non riuscivo più a raccapezzare e a capire cosa fosse. Poi quando ho cominciato a sentire le voci che chiamavano i loro compagni, quelli che sono sopravvissuti, allora lì mi ha preso proprio. Erano sepolti sotto, è una cosa che non la dimenticherò più, una cosa così. Muoiono sotto le macerie tre vigili del fuoco. Antonio Candido, il più giovane, a 32 anni, originario di Reggio Calabria, pompiere come suo padre. Mario Tricchess, 38 anni, di Alessandria, un bimbo piccolo e una grande voglia di aiutare. Matteo Gastaldo, l'ultimo ad essere estratto dalle macerie, 46 anni, viveva a Gavi con la moglie e una bimba piccola. Due pompieri e un carabiniere hanno riportato ferite lievi. Oggi il ministro dell'interno ha fatto loro visita in ospedale. Ecco com'era questa cascina definita di prestigio da Vincenti su Facebook. Messa in vendita a febbraio 2017, 800 mila euro per 30 mila metri quadrati, due scuderie per cavalli, la casa padronale finalmente ristrutturata. Nonostante i tanti annunci non si riusciva a vendere. Una vicenda quindi che ancora aspetta la sua conclusione, mentre è certo purtroppo che è forte il cordoglio di tutti, praticamente l'intero mondo istituzionale e politico, ma non soltanto si è stretto attorno al corpo dei vigili del fuoco. Ma come sapete c'è un'altra vicenda che inquieta a livello sociale e politico il Paese. Dopo il dietrofronte di ieri del gruppo franco-indiano Arcelor Mittal dall'acquisizione di ILVA, degli impianti del complesso siderurgico più importante del sud del Mediterraneo. Che cosa succederà ora? Il governo per la prima volta trova un'inedita compattezza. Inflessibili. Alla vigilia dell'incontro a Palazzo Chigi con i vertici di Arcelor Mittal, Giuseppe Conte scandisce la posizione del governo, che sulla vicenda sembra ricompattarsi. Tutti d'accordo? Nessuna blandizia e nessuna profferta al gruppo che minaccia il passo indietro sull'acquisizione dell'ILVA di Taranto per il no allo scudo penale per i dirigenti, sancito dal decreto salva imprese da poco approvato. Palazzo Chigi è deciso a tenere il punto e su questo si ritrova al fianco non solo il PD ma anche Matteo Renzi. Sono con Conte, dice il leader di Italia Viva. Togliamo alibi a Mittal e noi siamo pronti ad introdurre lo scudo penale, ma quando Conte dice che Mittal deve onorare il contratto, noi stiamo con il Premier. Se recede paga Mittal, non lo Stato. Conte, con lessico dal giurista, brandisce gli obblighi contrattuali dell'acquirente. È stato stipulato un contratto e domani saremo inflessibili sul rispetto degli impegni. Hanno partecipato a una gara con evidenza pubblica e in Italia si rispettano le regole. La salvaguardia del livello occupazionale e le bonifiche ambientali sono prioritarie. Difenderemo 9.000 famiglie l'indotto. Malato d'accusa più duro nei confronti della multinazionale, lo verga il ministro per lo sviluppo economico Stefano Patuanelli con un lungo post su Facebook. L'azienda accampa scuse strumentali e prende in giro lo Stato italiano gli impegni vanno mantenuti, scrive. Perché la convinzione nella maggioranza è che la mancata immunità per i dirigenti sia solo un pretesto per riaprire una trattativa e ridurre il numero degli operai da riassorbire. Non una reazione al no all'immunità penale quindi, ma una mossa studiata a freddo, quella di Arcelor Mittal. Hanno depositato al Tribunale di Milano un'attolicitazione nei confronti dei commissari straordinari di 37 pagine con 37 allegati. È la prova, aggiunge Patuanelli, che l'azienda studiava da mesi l'abbandono dell'area. Patuanelli dice no al ripristino dello scudo, non normal personam, ripete, ma offre uno spunto che può essere una via d'uscita, togliere ogni alibi ad Arcelor Mittal rintroducendo lo scudo penale. Lo chiedono i sindacati Confindustria e la linea del PD che dovrà mediare con l'ala più dura dei 5 Stelle contraria. È un testo per rintrodurre lo scudo, sarebbe pronto a votarlo anche l'opposizione che pure rumoreggia nell'aula di Palazzo Madama quando è bocciata la richiesta di convocare Subito Conte per riferire sulla vicenda. Se fanno un decreto che tutela Ilva, i voti della Lega ci sono, garantisce Matteo Salvini. E vediamo come però la giornata è stata vissuta a Taranto, dove il dietrofront di Arcelor Mittal è stato comunicato dalla Presidente alle rappresentanze sindacali. La giornata è quasi finita quando i sindacalisti escono dall'incontro con i vertici dell'Arcelor. Una mezza doccia fredda, ma non è una sorpresa. L'unica buona notizia è che l'impianto, continuerà a funzionare fino a che non si troverà una soluzione. Poi c'è la cattiva notizia. Avvierà una procedura ex articolo 47 per restituire indietro tecnicamente gli impianti e anche i lavoratori che aveva assunto da Ilva in AS. Lo ha detto esplicitamente al termine del confronto l'amministratore delegato di Arcelor, Morselli. Una lunga giornata per i lavoratori. A fine turno si esce dallo stabilimento a testa bassa e con poca voglia di parlare. Ormai la bomba esplosa, sussurra qualcuno. Quello che tutti pensano lo dice questo giovane operaio che la pensione non la vede neppure da lontano. Un altro giorno di ingresso nel lavoro, in fabbrica, dove non sappiamo se ne usciremo con un posto di lavoro. Qui nessuno vuole tornare al passato, l'impianto in mano allo Stato e nessuno crede nella possibilità di un nuovo acquirente. A rischio 8200 posti di lavoro che significa migliaia di famiglie con un solo reddito. Stavolta è anche peggio del 2012 per i lavoratori. L'immunità penale che non c'è più è solo l'ultimo dei problemi. La colpa arriva da lontano, dicono da chi per anni non ha tutelato il siderurgico più grande d'Europa. Non abbiamo bisogno di promesse, noi non siamo la politica, noi siamo rappresentanti sindacali e io devo guardare in faccia e negli occhi i lavoratori. Non posso far passare messaggi che addirittura si può essere 30 anni in cassa integrazione perenne. Ma di cosa parliamo? Un governo che si rispetti, degno di questo nome, si assume le responsabilità. Noi non vogliamo nessun sussidio, vogliamo lavorare. Vogliamo lavorare perché lavoro è dignità. Sindacati e delegati da stamattina presidiano l'azienda con un consiglio di fabbrica permanente. Si aspetta l'incontro di domani a Roma prima di prendere qualsiasi decisione. Andiamo ora a vedere una vicenda che mettendo insieme intolleranza e mondo dello sport non poteva che avere una forte presa, un impatto forte sull'opinione pubblica. Perché la vicenda Balotelli-Verona è diventata qualcosa di diverso? Il giorno dopo il caso Balotelli diventa il caso Verona. Dopo il lunedì delle interviste sciagurate e dei troncare e sopire, sono arrivate le prime sanzioni. Inizia il giudice della Serie A che chiude per un solo turno il solo settore dello stadio, le poltrone Est, da dove domenica sono partiti versi razzisti rivolti a Balotelli. Anche il rappresentante della Procura federale li ha chiaramente percepiti, scrive nelle motivazioni. Nessun dubbio invece sui commenti razzisti e filonazzisti di Luca Castellini. Oggi la società è la Sverona, con questo comunicato lo ha allontanato dallo stadio fino al 2030. Ha usato espressioni gravemente contrarie ai principi etici e ai valori del nostro club. Lui è già colpito da un daspo valido fino al 2022 e la società dunque ha preso ora i primi provvedimenti contro quel capo ultrà, coordinatore di Forza Nuova per il Nord Italia, candidato nel 2008 alle elezioni comunali di Brescia. 907 voti, voce assidua delle radio tv locali quando si parla a briglia sciolta di tifo e si festeggia enneggiando a Hitler, liquidando il tutto come una goliardata alla riconquista della Serie A. Anche la Procura di Verona ha ascoltato i fischi e deliri fino nazisti e ha aperto oggi due fascicoli di indagine con l'ipotesi di reato di violazione della legge Mancino sull'istigazione alla discriminazione razziale per le parole di ieri di Luca Castellini alla radio e per gli ululati contro Mario Valotelli e per questo fatto la Digos sta cercando di individuare chi li ha lanciati. Ma una parte della città non ci sta. Inizia il presidente dell'Ellas, Maurizio Setti, mette al bando Castellini ma dichiara che la società è diventata un capro espiatorio e con lui si schiera l'assessore alla sicurezza del Comune di Verona che minaccia una class action contro la Lega di Serie A per la chiusura del settore est dello stadio. È uno scandalo, nessuno in quel settore ha sentito gli ululati, si è colpito nel mucchio, dice. Già in mattinata cinque consiglieri comunali, quattro della Lega Nord e uno di Fratelli d'Italia, avevano presentato una mozione perché il Comune di Verona denuncia, ascoltate bene, Mario Valotelli e tutti coloro che attaccano Verona diffamandola ingiustamente perché nessuno allo stadio ha sentito quei versi razzisti. È Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, ad auspicare il ritorno in maglia azzurra di Super Mario e anche lui lo ha chiesto oggi. Non sono diverso dagli altri giocatori vittime di ululati razzisti, ma io sono italiano e dovrei tornare in nazionale. Ma la questione dell'intolleranza si lega, come si sa, alla polemica politica su una commissione che proprio è contro l'intolleranza, contro l'odio, contro la discriminazione razziale, contro l'antisemitismo e l'islamofobia dovrebbe battersi. È quella commissione istituita al Senato che porta il nome di colei che la cominciò a proporre molto tempo fa, la senatrice a vita Liliana Segre. Il braccio di ferro con l'astensione del centrodestra dall'istituzione della commissione potrebbe diventare qualcosa di diverso, stando a sentire quello che ha detto oggi Matteo Salvini. No, voglio ascoltare, ho da imparare, non ho da insegnare. Se avrò la fortuna di incontrare Liliana Segre, cercherò di ascoltare, di ascoltare tanto e parlare poco. Avete sentito bene incontrare Liliana Segre, la senatrice a vita sopravvissuta ad Auschwitz, perché oggi un faccia a faccia tra la senatrice e il leader della Lega non solo appare possibile, ma addirittura probabile. Se devo incontrare qualcuno penso a Liliana Segre, diceva Matteo Salvini stamattina rispondendo a una domanda del Corriere della Sera. Incontrarla sarà un onore, la mia porta è sempre aperta, io non odio, se vuole perché no, replica la senatrice. Ma l'incontro ancora eventuale fa notizia soprattutto per un fatto, perché una settimana fa il Senato ha votato e approvato la mozione per l'istituzione di una commissione contro odio, intolleranza, razzismo e antisemitismo, ma quella mozione al momento del voto non ha trovato il sostegno del centrodestra. Non vogliamo bavagli, diceva Salvini. Ora, di commissioni inutili in Italia, ce ne sono tante, ma questa ha davvero un sapore diverso, proprio per il fatto che a proporla è stata Liliana Segre. E allora, forse questo incontro annunciato potrebbe aprire la strada a una nascita condivisa della commissione. Salvini oggi puntualizza, sull'olocausto tutti d'accordo, ma tirare in ballo il razzismo quando si dice prima agli italiani non mi sembra opportuno. Mentre la Segre, dopo aver risposto agli astenuti con una straziante lettera sulla prigionia pubblicata dal Corsera, ora si limita a dirsi ottimista. La commissione si farà, si farà con tutti. Molti astenuti dopo mi hanno applaudita. In realtà, le immagini al Senato mostrano proprio molti senatori che rifiutano l'applauso alla Segre. Ma lei minimizza ancora. In televisione non si è visto. Ma dopo, molti mi hanno battuto le mani. Non è che fossero tutti indifferenti. Diciamo che si sono adattati a degli ordini politici. E ora andiamo a una vicenda che praticamente si è intrecciata all'arrivo dei risultati delle elezioni in Umbria, di cui tante volte abbiamo parlato. Quella domenica sera, pochi giorni fa, di fatto, arrivava l'anticipazione del Financial Times, il più importante quotidiano economico d'Europa, riguardo a un possibile conflitto di interessi che avrebbe investito il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Conte questa sera è andato a parlare alla Camera dei Deputati su questo argomento e ha presentato i suoi argomenti e i suoi documenti. La piena correttezza del mio operato è stata certificata anche dall'autorità garante della concorrenza del mercato, istituzionalmente deputata, come sapete, nel nostro ordinamento, a vigilare e sindacare sull'ipotesi di conflitto di interesse dei membri del Governo. Nessun conflitto di interessi, risponde in aula il Presidente del Consiglio, che interviene sul caso rilanciato da un'inchiesta su presunti fondi legati al Vaticano del settimanale britannico Financial Times, notizia catapultata nelle redazioni nella notte del voto in Umbria. Nel maggio del 2018 l'Avvocato Conte, ingaggiato come consulente, avrebbe spiegato ad un fondo di investimento italiano che per battere la concorrenza di altri fondi stranieri nella scalata RETELIT, che è la società proprietaria di gran parte dei cavi di fibra alla connessione veloce, avrebbe dovuto far valere la Golden Power, il diritto del Governo di intervenire a tutela degli interessi nazionali in caso di aziende considerate strategiche. Mai incontrati gli amministratori negli azionisti, non sapevano nemmeno che con quel fondo potevano essere coinvolte finanze vaticane, precisa Conte. L'assegnazione verrà decisa però in Consiglio dei Ministri il 7 giugno, ma Conte, appena diventato Premier, è assente e impegnato nel G7 in Canada. A presiedere la riunione, Matteo Salvini, allora Vice Premier. Ho letto che alcuni organi di stampa, più di recente, riferiscono di un incontro avvenuto a Milano nella serata del 13 maggio, con i leader dei due partiti che poi avrebbero sostenuto il nuovo esecutivo. In aula il Presidente del Consiglio ridimensiona anche la portata delle rivelazioni pubblicate da televisioni e giornali nelle ultime ore. Il giorno prima di consegnare il parere al fondo era già il possibile candidato a Palazzo Chigi, una cena in chioda al Premier, scrivono oggi alcuni quotidiani. In realtà Di Maio e Salvini nelle stesse ore avevano contattato anche altri nomi, non solo Conte fa capire di non essere un veggente, non poteva avere certo la sicurezza di essere ripescato e approdare a Palazzo Chigi dopo il no di Mattarella a Savona all'economia. Conte parla poco più di 15 minuti, segue dibattito con scambio di accuse, in particolare tra 5 Stelle e leghisti. Conte è venuto a riferire Salvini sulla Russia, no l'accusa lanciata che ha scatenato il caos. Colleghi, facciamo proseguire. Caro Premier, la tua ricostruzione è da teatro dell'assurdo, attacca invece il leghista centemero. In un'allucinazione collettiva tutti credono di vederlo in giro. Allora, vediamo come sia arrivata questo pomeriggio la notizia della conclusione dell'indagine della Procura di Roma sui finanziamenti alla politica del costruttore Parnasi, ricorderete la vicenda dello stadio della Roma, una vicenda appunto che riguardava fatti accaduti tra il 2015 e il 2018. Rischiano di andare a processo, ma ancora ci deve essere la richiesta e l'eventuale rinvio a giudizio, il tesoriere della Lega, Giulio Centemero, e l'ex tesoriere del PD, ora approdato a Italia Viva, Francesco Bonifazi, questo è Centemero, il quale è accusato per una dazione di 250 mila euro a una società di cui, non lui, l'altro, è legale, rappresentante, soldi che sarebbero stati destinati dal leghista a Radio Padania. Bonifazi, quello della seconda fotografia, avrebbe percepito un finanziamento illecito da 150 mila euro attraverso una consulenza fittizia a una fondazione legata al PD. Tutte e due le evenienze erano emerse durante la prima fase dell'indagine. Ma ora andiamo sulla scena internazionale, dove ci sono due notizie importanti. Una riguarda gli Stati Uniti e il clima. Gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo, quello con la sigla Parigi, l'accordo di Parigi così viene chiamato sul clima, si sono ritirati ufficialmente. Ma vi anticipo che, prima di vedere questo servizio, è arrivata poco fa la notizia del cambiamento della deposizione di quello che era l'ambasciatore americano nell'Unione europea, che ha ammesso quello che ha sempre negato Trump nella vicenda dell'Ucraina, il doubt des tra l'aiuto militare alla nuova Ucraina e l'apertura delle indagini sul figlio di Biden da parte delle autorità di Kiev. Questo apre la strada ancora, evidentemente, a elementi corposi nei confronti dell'attuale presidente americano nella procedura di impeachment. Ora non si torna più indietro. Gli Stati Uniti, unico paese al mondo, ha dato l'addio all'accordo sul clima di Parigi con una notifica inviata alle Nazioni Unite, così come prevede la procedura, il primo giorno utile dopo i tre anni di attesa necessari. Anche la data scelta è significativa. Il prossimo 4 novembre, immediatamente dopo le elezioni del futuro presidente americano, un modo per Donald Trump di ricordare all'elettorato che lui mantiene le promesse fatte in campagna, ma anche per legare le mani ad un possibile presidente democratico che dovrà eventualmente chiedere di essere riammesso. Dure le reazioni del resto del mondo nel giorno in cui Nuova Delhi, la capitale dell'India, non respira, avvolta da una coltre di polveri sottili con livelli di inquinamento atmosferico fino a 10 volte oltre i limiti massimi. Oggi sono 11 mila gli scienziati di tutto il mondo, 250 italiani, che sulla rivista Bioscience vaticinano un'umanità a rischio di indicibili sofferenze. Se in un futuro ormai prossimo non si invertiranno i comportamenti che provano il riscaldamento del pianeta, comportamenti che da quando Donald Trump è presente, l'America ha ripreso, cancellando tutti i decreti sul clima voluti da Barack Obama. Per primo il ritorno alle centrali a carbone, molte delle quali erano in dismissione, poi la diminuzione delle aree boschive protette, per non parlare della ripresa intensiva degli allevamenti animali. Per questo dalla Russia fanno sapere che l'accordo di Parigi senza l'impegno della maggiore economia al mondo è destinato a morire. Non la pensa così però l'Unione Europea, secondo la quale si può andare avanti senza Washington ed è per questo che oggi il presidente francese Emmanuel Macron è in Cina. Insieme a Xi Jinping in queste ore firmerà un documento congiunto che renderà irreversibile proprio l'intesa sul clima siglata in Francia. La cooperazione tra Cina e Unione Europea sarà decisiva, ha detto Macron, ed in effetti senza gli Stati Uniti solo il grande impegno di quello che fino ad oggi è stato il primo inquinatore del pianeta, ma che da tempo ha capito la grande opportunità economica che offre la riconversione della sua intera economia ad economia verde, può mantenere gli accordi di Parigi in vita. Allora, vi dicevo prima del telegiornale che sono successe altre due cose, ma non c'è tempo per il servizio. Un accordo tra le autorità dello Yemen e quelli che erano i separatisti del sud del paese. Se regge quella tregua non è l'unica guerra civile all'interno dello Yemen, ma ne è parte e non a caso è stata annunciata da Riad, da Muhammad bin Salman, che è il vero numero uno del regime saudite. L'altra notizia è che da Teheran l'Iran ha annunciato una nuova escalation nell'arricchimento dell'uranio, insomma nel superamento, nella violazione di quello che fu l'accordo sul nucleare, che fu firmato da vari paesi, da varie potenze e che è stato rifiutato dai nuovi Stati Uniti di Trump. La stessa cosa dell'accordo sul clima di Parigi. Vedremo le incognite, sono chiare, vedremo che succederà, ma intanto vediamo che cosa succede dopo di noi, perché a 8 e mezzo Lilli Grubera ospita il Neo, ma ancora, come si sa, la Commissione non si è insediata. Il commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni, c'è anche Marco Damilano. Tra gli ospiti di Giovanni Flores di martedì ci sono Nicola Zingaretti, Alfonso Bonafede, Lorenzo Fioramonti. Ci fermiamo. E infine vediamo come sono andate le borse. Milano ha chiuso in leggero positivo, più 0,23% con lo spread inchiodato ormai da molti giorni, attorno a 131 punti base. quest'oggi, mentre a New York è pure frazionale il progresso di Wall Street, Dow Jones più 0,31, Nasdaq più 0,20. È tutto Gruber, Floris, ci vediamo domani sera. Buonasera.